Totò avrà finalmente un suo legale, l'aquilano Antonio Valentini, l'unico ad aver risposto all'appello di Cristiana Graziani, medico veterinario. Ricorderete tutti il caso di Totò, che noi di TV1 avevamo denunciato lo scorso 21 maggio, quando il cane, sopravvissuto all'ira del terremoto, non si è salvato purtroppo dall'ira disumana del suo investitore. Totò, la notte del terremoto, dormiva sotto l'atro di una parte dell'ospedale, che è poi crollata, ma il cane di quartiere, mascotte del San Salvatore, era stato investito da un noto legale dell'aquila, mentre riposava sotto la sua autovettura parcheggiata nei pressi del nosocomio. Il proprietario della macchina, da quanto si è preso dalla testimonia oculare, l'unica Cristiana Graziani, sarebbe un noto avvocato aquilano, il quale avrebbe invitato dapprima il cane ad allontanarsi, gridandogli contro, e poi, non ottenendo nessun risultato, avrebbe messo in moto l'auto, iniziando a retrocedere verso il cane, per poi dargli dei colpi sulla schiena con le ruote della vettura. Cristiana cura danni, Totò, e per prima lo ha soccorso, portandoli in una clinica privata e attivando una campagna di solidarietà che ha permesso di raccogliere oltre mille euro per la fisioterapia e i trattamenti cui il nostro amico a quattro zampe si è poi sottoposto. Per fortuna Totò ora avrà anche l'assistenza legale, gentilmente offerta, come dicevamo, dall'avvocato Antonio Valentini, l'unico ad aver risposto positivamente agli appelli della Graziani per la difesa dei diritti dell'animale. La veterinaria, infatti, ci racconta di aver trovato un muro nei confronti dei legali aquilani cui si era rivolta per risolvere il caso.